Musica Noi della 4D abbiamo partecipato al progetto Sole in classe Energie Rinnovabili. Questo è il nostro lobby, il sole grande riso in due. La parte triste e scura a cui chiediamo scusa è il mondo che vorremmo, tutti noi bambini. Questi sono i nostri disegni e le energie che abbiamo studiato. E ricordatevi, non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. Sono Nicola Matteo, ambasciatore dell'Unter, sono qui con il volontario Romualdo Unzo. Buongiorno. E volevamo ringraziare tutto lo staff dei docenti dell'Oreani Diaz e la dirigente scolastica Iliano Annalisa per averci dato l'opportunità di mostrare il progetto Sole in classe ai bambini di questa splendida scuola. E vi invitiamo a votarci, a votare questa scuola affinché possano vincere il premio dell'Under. Grazie, ciao, buona energia green a tutti. Grazie.